Eccoci qua ragazzi, oggi con un po' di ritardo, scusate, è giorno di Italia-Belgio, quarti di finale alle 21, ma al 18 questi quarti di finale si apriranno con Svizzera-Spagna, vedremo se la Svizzera riuscirà a fare un altro miracolo oppure cadrà contro la Spagna, vedremo, perché fare due miracoli non è cosa da tutti, tra l'altro mi pare che Sciacca sia anche squalificato, non lo so, vedremo, vedremo. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un bel mi piace, condividete dovunque, ovunque e con chiunque e commentate con una domanda, un'opinione su un calciatore, una trattativa, qualsiasi cosa, che io nel video del giorno dopo vi risponderò a tutti quanti. Prima delle news andiamo a vederci, come al solito, i vostri commenti, intanto Salva ci dà una notizia ufficiale che volevo darvi anche io, ovvero che Christian Kivu è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter primavera, quindi dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, un altro salto è ad essere la primavera, un grande boccale un po' al nostro Christian. Poi, un po' di domande da parte di Salva, allora ci chiede intanto di Geko, perché dice, ho sentito che il DS della Roma ha detto all'agente di Geko di trovarsi una nuova sistemazione. Secondo te l'Inter potrebbe pensarci? Non lo so, per ora, fino ad oggi non si è parlato neanche un minimo di Geko all'Inter, Geko era un pupillo, diciamo, molto voluto da Conte e se fosse rimasto Conte sicuramente l'avrebbe chiesto. Ad oggi non lo so, anche perché prende un ingaggio che, come sapete, l'Inter sta cercando di perfezionare un po' i conti, poi bisogna trattare con la Roma, che chiede comunque tanto per un 33enne o 34enne, non lo so, non lo so, non penso, non penso. Poi un'altra domanda è se ti risulta che l'Inter è su Van Adolt, sì, non mi ricordo se l'ho detto, forse in qualche video, non mi ricordo, però sì, ho sentito, è un parametro zero, a me non mi fa particolarmente impazzire, però secondo me questo Van Adolt potrebbe arrivare solo con la vendita di Di Marco, perché magari si va a fare cassa con Di Marco e si prende questo Van Adolt a zero, ovviamente, per la panchina. Questo penso sia l'unico modo per farlo arrivare. Poi Schild ci dice, Perisic, ho sentito, non partirà perché lui non vuole andare via e se non rinnova andrà in scadenza tra due anni. Beh, su Perisic, vabbè, tra due anni è già la sua età, tra due anni penso che sia a fine carriera, quindi magari andrà in MLS o in Cina o che ne so io, quelle parti là, per finire la carriera. Però, attenzione, è vero che su Perisic è sempre stato difficile cederlo, però, attenzione, perché se arrivassero vere offerte dalla Bundesliga o qualche trattativa con contropartite, Perisic non gli dispiace andare in Bundesliga, anzi, c'è già andato al Bayern Monaco. Quindi, comunque, l'unico modo, l'unico posto in cui penso lui andrebbe è la Bundesliga. Staremo a vedere, staremo a vedere il mercato appena iniziato. Invece, su Sergio Roberto ci dice, Sergio Roberto, ho sentito che è quello più vicino. Invece, di questo te lo posso smentire perché è stato già smentito che Sergio Roberto non c'è stato niente. Dalla Spagna, ragazzi, sparano il mondo deportivo prima con Jordi Albamo, con Sergio Roberto. Tutti a noi ce lo vogliono dare e sparano a zero, che poi vengono mano a mano smentiti ogni volta. Onana a zero non mi dispiace, infatti è un bel portiere. Van Hausden anche lui non mi dispiace, soprattutto se si riesce a recuperare fisicamente. Van Hausden, ragazzi, c'ho una notizia che potrebbe finire al Sassuolo, perché noi comunque il reparto difensivo è già al completo, e lo si vogliamo andare al Sassuolo in prestito per farlo abituare, diciamo, alla Serie A, farlo giocare nel campionato di Serie A, e quant'altro. Poi continuiamo questo discorso. Mi chiede, Getro Williams e Mustafi a zero ti piacerebbero? Guarda, non li conosco. Mustafi l'ho già sentito, però in questo mercato dove non devi buttare soldi, non devi sbagliare mezzo colpo, non penso sarebbero quelli giusti. Poi, non lo so, staremo a vedere. Rado, per questo lo dico da tenere, stancovi c'è troppo giovane, ti esperienzi in A. Allora, su Radu dopo c'è anche questa una notizia, perché c'è la notizia su Radu e per la Real Sociedad, e poi dice che Brozovic rinoverà, penso, a 5 milioni di bonus, penso pure io che si farà, rinnoverà senza problemi. Brozovic è uno che comunque è nell'Inter da tanti, tanti anni, e non penso che ci farà lo sgarbo come è successo col Milan con Donnarumma e Giannoglu. Adesso andiamo alle notizie, così anche dicendo le notizie vi rispondo ad alcuni vostri messaggi che mi avete chiesto. Allora, intanto, prima di tutto, una bellissima notizia, perché Ericsson, non ci sono foto per la privacy, Ericsson è stato, hanno detto che è stato visto con il figlio al parco giochi a dare due calci al pallone. E questa, ragazzi, è una bellissima notizia, soprattutto non come per Ericsson calciatore, ma per Ericsson persona, per Ericsson padre, perché comunque vuol dire che si sta riprendendo, può tornare a giocare con suo figlio e quant'altro. Ovviamente gli lasciamo il suo tempo, il suo spazio e la sua privacy, però giusto per darvi una bella notizia. Come sapete, Pirelli non è più il main sponsor dell'Inter, dal 30 giugno è scaduto il contratto. Quando il nuovo sponsor, ragazzi, si sa già qual è, o almeno loro sanno già qual è, è già chiuso e le maglie sono già fatte, si aspetta un annuncio per un fatto di marketing, quindi l'annuncio si sta aspettando per farlo per una questione di marketing, ma è già tutto chiuso, non è che devono ancora cercarlo questo main sponsor, è già tutto fatto, stanno solo aspettando del dare l'ufficialità per un fatto di marketing, quindi tranquilli sotto questo aspetto. Poi, Hakimi, il Real aveva 48 ore, perché tramite un vecchio accordo tra Inter e Real, il Real poteva pareggiare qualunque offerta accettava l'Inter da un'altra squadra. Il Real ha dato l'ok, non pareggerà l'offerta, quindi nella trattativa per Hakimi e Real si può andare avanti. Si parla tanto, poi tra l'altro c'è stato un summit tra Osilio, Bacino e Marotta per parlare un po' del mercato, poi Marotta aveva detto che aveva incontrato Inzaghi per parlare di mercato, poi tra poco Inzaghi ci sarà il ritiro, potrà valutare un po' tutti, e poi ragazzi dopo vi danno una notizia che siamo qua tutti a pregare che succeda, fra poco ve la dico. Si parla ancora che i preferiti per le fasce siano Bellerin a destra, Alonso a sinistra? Sinceramente non lo so perché, boh, Alonso, ragazzi, io preferisco i quinti di centrocampo, secondo me devono essere veloci, veloci, agili, con un buon fisico, ok? Alonso non lo so, non lo so. Vedremo, ma secondo me non penso che possa arrivare Alonso, vediamo. Poi col Chelsea che adesso, sapete, era in corsa per Achimi, boh, vediamo, ma non penso possa essere lui. Bellerin, comunque, se dovesse arrivare in prestito, ragazzi, non è male. Cioè, ragazzi, questo è stato bloccato negli ultimi stagioni, ha perso un po' il posto perché ha avuto un infortunio, e comunque quest'anno non ne ha avuti di infortuni, sta recuperando e quant'altro. Ma, ragazzi, questo era uno dei terzini qualche anno fa, uno dei terzini, penso, più, che potevano diventare uno dei più forti. E' peccato che è abituato alla difesa a quattro, quindi vedremo se c'è un po' da lavorare. Sarebbe una scommessa, però una scommessa comunque in prestito, ecco. Quindi staremo a vedere, sulle fasce si fanno tanti nomi, ragazzi, aspettiamo e vediamo. Fidiamoci del buon Don Beppe Marotta. Poi, ragazzi, questo Van Austen, che dicevamo prima, potrebbe finire a Sassuolo, per appunto farlo abituare alla Serie A. E se state notando, tra Inter e Sassuolo ci sono molti contatti. Il Sassuolo che chiede alcuni nostri giovani, Van Austen, l'Inter a cui piace Raspadori, Carnevale aveva detto rimarrà qui. Quindi, infatti, sta dicendo che forse l'Inter, con una trattativa tra contropartite, cash e quant'altro, possa prendersi Raspadori, ma lasciarlo per un anno ancora al Sassuolo, per farlo giocare, per farlo maturare, per poi il prossimo anno portarlo alla base. Quindi, vediamo, vediamo un po' cosa succederà. Vediamo se, poi, ha parlato ancora a Camagno, ragazzi, perché questo qui mi sta anche un po' sfasciando le balle, questo agente, che parlo anche, secondo me, un po' troppo. E ha detto, rinnovo, sappiamo che l'autore è molto importante per l'Inter, siamo sereni perché ancora due anni di contratto. Siamo chiamati a parlare con il club per confrontarci sulla permanenza o se andare via. Adesso, con tranquillità, parleremo. Il mercato è molto lungo e tutte le squadre d'Europa faranno tanti movimenti e dobbiamo parlare con l'Inter. Allora, caro Camagno, mi stiamo già un po' rompendo le balle. Allora, è una tattica per dire all'interenza l'offerta e quant'altro? Cazzo, ma questo veramente parla tantissimo. Mi sta un po' rompendo le balle questo Camagno, sinceramente. Vedremo. Ovviamente, ragazzi, l'autaro, da qualunque altra parte di ogni altra squadra, avrebbe preso siano almeno 7 milioni. E qui, invece, a 5, 5 e mezzo, filmerebbe contento. Cazzo, ma io penso che un l'autaro se li meriti questo stipendio. Vediamo se si esce a darlo. Ovviamente, prima, devono anche capire che prima di fare questa cosa, magari qualcuno deve uscire. Però penso che l'autaro resterà e filmerà il rinnovo. Poi, su Radu, dicevamo prima, Radu, Real Sociedad, Radu non è molto convinto di questa destinazione, è un po' bloccato il tutto. Quindi, forse, Radu resterà anche quest'anno. E vedremo. Il prossimo anno arriverà appunto Onana, dovrebbe arrivare Onana. Quindi, arrivando Onana, qualcuno deve più uscire. Vedremo il prossimo anno, comunque. La notizia finale è che il CSKA di Mosca sembrerebbe essere su Dalbert. E ci sono gli interessamenti anche di qualche squadra spagnola. Però, forte il CSKA. Allora, se Dio volesse, mettiamoci tutti a pregare che qualcuno si prenda sto cazzo di Dalbert a titolo definitivo, che è una cosa difficilissima a titolo definitivo. Così come Joe, Mario, sto cazzo, questi due qua che non se ne vanno fuori dalle balle. Sembrava tutto fatto con lo Sporting. Adesso c'è il Benfica, però esce che c'è un accordo con lo Sporting, una clausola. Non me ne frega un cazzo dove va. Basta che va, andava da via. Così come Dalbert. C'è StK, buttaci qua un'offerta. L'Inter lo valuta, mi pare, 6-7 milioni. 6-7 milioni. Cioè, mettici un'offertina, 7 milioncini, lì, buttata lì, ve lo diamo, ve lo spediamo subito, ve lo spediamo. Anche per Joe, Mario, chiunque abbia 6-7 milioni, fuori dalle balle, vi prego. Cioè, ragazzi, se escono Dalbert e Joe, Mario, solo per questo è da fare una statua marotta. Una statua, se escono questi due. A titolo definitivo, proprio me la costruisco qua a fianco, una statua. Vedremo, ragazzi, vedremo. Comunque, almeno, è uscito qualcosa, sapete, poi si parla tanto, però poi nessuno ci butta i soldi. E quindi... Vabbè, queste sono le notizie di oggi. Questa sera ci sarà il postpartita di Italia-Belgio, quindi ci vediamo questa sera per il postpartita. Questa sera per la live su Arena Sportiva YouTube. Quindi, Arena Sportiva, ci saremo io, più altre due o tre persone, vedremo, a vedere la partita Italia-Belgio in live reaction. Vi aspetto e poi domani, col solito, nostro appuntamento quotidiano. Sempre Forza Inter e questa sera, ragazzi, Forza Azzurri. A domani, anzi, a stasera. Mi raccomando, in live reaction, eh!